Oggi eravamo un po' imballati, ma perché stiamo lavorando molto e amichevoli così ci servono anche a livello fisico, come scontro fisico, magari subire anche qualcosa perché ci fanno rendere conto magari di ancora qualche limite che abbiamo. La vittoria ora conta per il morale, ma i punti non ci sono, quindi conta relativamente. Ma è il significato che secondo me dobbiamo lavorare sotto l'approccio mentale e anche in queste partite non bisogna sottovalutare. Avete visto oggi, abbassi un po' la guardia, prendi gol. Si è radiato sotto il tuo voce d'Italia. Sì, molto, perché era calcio d'angolo per noi, sembrava un'azione tranquilla, invece siamo riusciti a prendere un contropiede quando eravamo in superiore da numerico, però queste cose qua ci lavoriamo e si risolveranno. Vediamo con la società, ne parliamo tutti i giorni, se c'è l'opportunità di migliorare la rosa, perché no? Sì, è un'area scura a Cunio, sono trasferito a Bologna per mia moglie, quindi ho voluto una realtà dove potevo anche cominciare a allenare il settore giovanile, il direttore mi ha dato questa possibilità e insieme faccio parte della rosa per fare il campionato. Io sono rimasto la Toscana, la zona parretina, mi è rimasto ancora, ho casa qua ancora, quindi sono stati quattro anni che mi hanno fatto crescere moltissimo come cacciatore, come uomo. E fuori l'amicizia che ancora ritorno qua, vedo ancora i vecchi amici di un tempo, che fa sempre piacere.